Con Lucia Bendia che ha curato e interpreta lo spettacolo Who is Me a Roma, Teatro Portaportese, sabato 5 marzo 2022 nell'ambito degli eventi per i cento anni dalla nascita di Pierpaolo Pasolini. Ben trovata. Ben trovati a tutti voi. Buongiorno. Ce ne parli? È un'opera in versi in cui il poeta ci porta dentro la propria vita, la propria biografia, la propria visione della poesia, anche una visione politica chiaramente per Pasolini è inevitabile all'interno del suo cinema, della sua produzione artistica. Quindi è uno spaccato di vita e lui si è scritto quest'auto intervista nella sua intenzione per presentarsi al mercato americano. Come è nato il progetto? Il testo è stato trovato quattro anni fa, un gruppo di giovani di Iesi, che è la mia città d'origine, in particolar modo Elia Castello, questo giovanissimo, mi ha portato questo testo in quanto stavano organizzando in estiva una pasoliniana. Ha detto, è meraviglioso, ne leggeresti un pezzo? E io mi sono innamorata e ho detto no, se faccio questa cosa la voglio leggere tutta e quindi abbiamo iniziato così quattro anni fa come reading, sempre con la musica dal vivo. E poi mano a mano è diventato uno spettacolo vero e proprio. In questa edizione la regia è di Alessandro Guerra. Come è pensata la messa in scena? Siamo in uno spazio, uno luogo che può essere un teatro di posa, è uno spazio quasi della memoria, in cui lui si chiude appunto per registrare questa intervista. Quindi è uno spazio in cui lui lascia questa lezione. C'è questo intento di lasciare questo messaggio alle generazioni future. Cosa ti aveva convinto del testo? La cosa più forte che mi ha toccato molto è questa proprio condizione di narrazione del sé profondo dell'artista, in cui c'è sempre qualcosa di ineffabile, che dichiara anche a un certo punto proprio l'impossibilità della parola, intesa anche come parola poetica, di rappresentare, di evocare. E per questo ci porta dicendo io vorrei essere musica. E questa cosa credo che sia la condizione più forte che un artista può provare in vita, cioè quello di essere talmente vicino al sublime da non poterlo rappresentare attraverso la parola. Credo che questo sia un messaggio fortissimo. E questa cosa mi ha fatto veramente innamorare di questi versi e di questo testo. E per quanto riguarda le musiche? Abbiamo tutte musiche per violoncello. Al violoncello avremmo Simone Citta. Saranno delle musiche che rappresenteranno lo spaccato emotivo dell'autore che immaginiamo sia sotteso a quei versi, a quel trance de vie. Si inserisce lo spettacolo in questa due giorni al teatro di Porta Portese per il centenario della nascita. Come è arrivato questo appuntamento? Con grande sorpresa siamo stati contattati appunto dal teatro e siamo molto felici di questa cosa. Perché proprio oggi in questo momento storico, a cavallo tra una pandemia e una guerra, anche se fa spavento pronunciare queste parole, poter rendere omaggio in un centenario a un autore così vivo e così ipercontemporaneo è un dono immenso. Nel senso, forse quello che hanno patito di più gli artisti in questi due anni è stata la difficoltà. E quindi ogni volta che arriva un'opportunità, e poi un'opportunità meravigliosa come questa, è una grande sorpresa. C'è da esserne grati. Avrà un suo percorso dopo questa data lo spettacolo? Sì, sì, avremo altre date sia in Italia che all'estero e quindi stiamo organizzando il tutto e siamo felici di poter portare ancora l'energia, il pensiero di un autore così denso, importante e possiamo dire anche per certi aspetti, per certi versi controverso. Ci sono anche dei riferimenti web per i dettagli, per maggiori informazioni? Ovviamente abbiamo le pagine social del teatro Abraxa e per quanto riguarda le prenotazioni si può scrivere una mail ad abraxateatrochiocciolaabraxa.it Lo spettacolo Who is me? A Roma, al Teatro Porta Portese, sabato 5 marzo 2022, nell'ambito del due giorni di eventi per il centenario dalla nascita di Pierpaolo Pasolini. Un saluto e un ringraziamento a Lucia Bendia, che è curato e interpreta lo spettacolo. A presto! A prestissimo e grazie e buona giornata a tutti!